La giornata era bellissima, se non che avevamo appena un passaggio. Che cominciò a soffiare impetuoso il vento, ma gli alpinisti non si curano delle ire di Messer Eolo e si tirò avanti allegramente per gabbà dopo aver fatto una breve sosta a Grecchia. La rispettosa fila ci fece comprense della nostra imprutenza e rimessici sul lavoro e mi acconsigliò il giovane a discendere dal paziente somale. Dopo mezz'ora di marcia, faticosissima, grondanti di sudore, bagnati in teglia, potrebbero al fine sfruggere al lago, alla cui estremità ci apparte il desiderato. Il rifugio è là dietro, quindi è veramente vicino. Io lo ti scurra. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.